Amici di Vivare 2, molti di voi l'avranno già riconosciuto, anche molte di voi soprattutto perché questo è Rodolfo Valentino l'uomo più bello del cinema muto, a primi del novecento insomma il cinema muto e voi direte ma perché ci fai vedere la foto? Eh perché faccio vedere la foto? Perché il vero Rodolfo Valentino è qua con noi, proprio dietro questa foto eccolo qua Ma gli metto un attimo, così gli do il tempo di riprendere E' proprio lui ragazzi, è proprio lui, Rodolfo Valentino, detto Rudolf, Rudolf perché lui poi viveva negli Stati Uniti dove aveva grandissimo successo perché il film muto, perché lui faceva film muti, no? Il film muti era solo le sue espressioni, il suo fascino, le donne impazzivano per lui, cadevano ai suoi piedi perché veramente, pensate che il termine latin lover, pensate, nasce proprio per lui, per lui perché negli Stati Uniti dove c'era il film muto, c'era gli cepi, c'era tanta comunità ma poi c'erano anche i film drammatici, i film d'amore e lui era, in questi film, era sempre il conquistatore conquistava sempre la bella di Turner, però pensate, è nostro, è italiano anzi, è di Castellaneta in Puglia, pensate, in provincia di Taranto Chi le aveva detto? Questo divo del cinema muto che mai nessuno ha sentito parlare Perché? Perché faceva il cinema muto, non c'era il sonoro Quindi noi oggi per la prima volta lo sentiremo parlare Rodolfo Valentino, l'uomo più affascinante della storia del cinema Nessuno ha mai sentito la sua voce, signori Il fascino, guardate il fascino, guardate che fascino Questo è proprio fascino Allora, signori, quindi io direi di non indugiare oltre e ascoltare la voce di questo mito Questo mito del cinema muto, Rodolfo Valentino Prego, buongiorno Rodolfo Valentino Sino Tremone S'ho fatto una bella vita, sono stata la merda S'ho fatto la merda, s'ho fatto la Francia, s'ho fatto tutte le femmine del mondo Non ho fatto, pensate a chi Rodolfo Valentino Hai capito? Scusi Chi c'è? Ma lei fa il lavoro? Chiudi! 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 Basta